Il nostro mare è splendido. Sono queste le parole con le quali il Presidente della Regione Calabria, Mario Liverio, ha parlato del sistema depurazione in Calabria. Dichiarazioni queste che arrivano in un momento abbastanza importante per il turismo. La task force che abbiamo allestito nel sistema della depurazione ha lavorato benissimo, ha detto Liverio. Abbiamo un quadro preciso della situazione che monitoriamo costantemente e che è progressivamente migliorata nel corso degli ultimi anni, con i comuni che avranno importanti risorse grazie alle convenzioni con la Regione per realizzare un'impiantistica efficiente e all'altezza della situazione. Abbiamo lavorato molto sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ha concluso Liverio, e non è un caso che i punti di vieto di balneazione si sono via via ridotti. Se dovesse verificarsi un alluvione o un evento straordinario come è stato qualche settimana fa, ci può essere un problema per qualche giorno, ma questo è normale e naturale e infatti nel giro di pochi giorni il mare è ritornato a essere splendido e cristallino.